amici di calciopazzo dai proviamo a fare sta cosa che forse è divertente praticamente commentiamo quello che leggiamo una sorta di rassegna stampa come vogliamo chiamarla insomma zagnolo vicino rinnovo compra casa alla famiglia beh questo può vuol dire tutto e niente perché comunque investimenti immobiliari soprattutto a roma non è che sono male come come situazione c'è sempre un piede a terra a roma non è indicativo però io credo che la roma se vuole dar vita a un progetto sportivo quantomeno ritornare a quella che era la roma dello scorso anno con i suoi sogni le sue ambizioni europee non può prescindere da zagnolo o da altri tipo a mio avviso anche mano l'assa cioè ci stanno comunque 3 4 giocatori che a mio avviso andrebbero confermati e poi bisogna aggiungerne altri poi de laurentis a una cosa oggi ho sentito l'intervista di ranieri in pratica si mette dentro anche lui tra i papabili della prossima stagione come allenatore della s roma e questo tutto sommato non può farmi che piacere perché tolti quei top allenatori che tutti magari sogniamo ma che secondo me difficilmente arriveranno se devo pensare all'attuale allenatore della samp doria sulla panchina della roma che secondo me rispetto a di francesco non sposta assolutamente un cazzo a questo punto me tengo claudione nostro anche per il prossimo anno sperando che poi la situazione sportiva della roma cresca la situazione economica anche e possa diventare appetibile per un top allenatore e magari che ne so con la si sblocca la vicenda dell'emiro che cazzo ne so io non ci spero sempre anche quello ci credo poco ma ci spero spero nel nostro capitano francesco totti che faccia un lavoro di raccordo che trovi insomma qualcuno col portafoglio pieno che prenda portafogliate i presidenti avversari quando va a comprare i giocatori e rilancia su se stesso poi a dl ronaldo non è servito alla juve in italia il calcio è preistoria guarda in italia il calcio in preistoria su questo sono d'accordo ci ho fatto anche video questa mattina ronaldo non è servito alla juve è una grossa cazzata perché ronaldo oltre che un'operazione sportiva comunque il suo lui l'ha fatto è anche e soprattutto un'operazione commerciale perché ronaldo è stato ripagato e prossimo anno comunque solo dei merchandising comunque ti porta un attivo che se tu te lo rivegni e non gli fai fai quattro anni comunque è stata un'operazione fantastica a prescinde poi dal vince o non vince quella è una cosa a parte perché poi è un giocatore importante fondamentale ma non è la squadra e comunque intorno gli devi mettere gente all'altezza non è che la juve non l'abbia poi chiaramente si viene anche eliminato dalla champions per episodi guarda ieri sera il manchester city che secondo me ha fatto una partita tutto sommato nel computo migliore del totterham e poi alla fine per episodi non passi quindi ronaldo non è servito alla juve secondo me è una grossa cazzata poi io su questo chiaramente non ci vorrei manco spende troppo troppo tempo come non ho dato seguito a dopo il fatto che che si è e quell'altro bagaglio hanno mostrato in maniera poco signorile ecco se vogliamo dire questo la maglia di un professionista esemplare come acerbi non commenterò questi cretini che gli hanno fatto i cori con la banana eccetera che ne penso però se è capito ma non perché io non voglio essere strumentalizzato perché io so della roma l'avrei detto anche se fossero stati tifosi della roma perché il cretino non ha colori ragazzi eh si è fermato il charawi me pareva strano me pareva molto strano che comunque dico beh ogni partita si fa male qualcuno e ogni settimana si fa male qualcuno in allenamento oppure si ferma oppure affaticato un cazzo e un altro io vedo che una stagione come questa è irripetibile veramente la professionalità di quelli che sono stati scelti per venire a fare il settore tifosi del benfica in viaggio per francoforte ma sbagliano città ma che cazzo aspetta devo leggere scusate mi faccio perdere un po di tempo ma non l'avevo preparato sto video lo sto facendo allora alvaro e giorgio partiti per vedere il match e roba lì che hanno impostato male tornati che sono finiti al confine con la polonia magari in effetti c'è stanno delle città che si chiamano che si chiamano uguali questa sì l'avevo sentita di pure io quindi voracci dai hanno speso un sacco le sordi poi vabbè un applauso a ita jespica e alla propria mamma che ha partorito con tanta bellezza poi di bala c'è sempre un'altra stagione non lo so se per te ci sta un'altra stagione nel senso sì ci sarà un'altra stagione ma magari da un'altra parte penso che il popolo giuventino si è rotto un po i coglioni anche se personalmente io di bala per ditta la roma me lo prenderei subito subito proprio subito e bari è stato promosso e vabbè complimenti al bari chiesa e moderno può giocare anche la juve può giocare un po dappertutto questi sono i nomi della juve sarà una juve chissà zagnolo i gardi chiesa e che è questo e vabbè mi pare che abbiamo letto un po tutto per il futuro ci sono corsi anch'io si l'abbiamo detto e basta vabbè qui si sta esagerando è un saluto e sempre caccia o paccio caccia o 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 caccia. Grazie a tutti.